il blog di oggi sarà qualcosa un po più particolare sarà qualcosa un po più artistico quindi invito tutti quelli che non vogliono magari vedere qualcosa di un po più particolare di guardare il blog della settimana prossima questa qui è la scalinata della cattedrale qualche anno fa abbiamo fatto la decisione, vi faccio vedere la clip guardate siamo arrivati, andiamo a incontrare il regista vediamo abbiamo visto Jack Martin, Jacopo, il regista c'è pochissima luce qua dentro ti dà quell'effetto un po di ambiente di altri tempi, molto bello questo clip, molto molto bello siamo al secondo film prodotto allora la proiezione è finita, devo dire che è stato figo mi sono emozionato, mi sono molto emozionato allora il film è finito, devo dire molto bello, il messaggio c'è stato il messaggio quale? che stavo morendo, che il cinema non è morto è bello vedere che c'è ancora del cinema indipendente, delle persone che si autopromuovono e si autoproducono quindi c'è ancora tanto bel da fare, potete trovare il link del film in descrizione e per tutto il resto vi aspetto settimana prossima con una nuova puntata del vlog